Il percorso Meditazione e Interiorità che abbiamo intrapreso ci ha portato ad affrontare il tema del come meditare. Abbiamo analizzato i mezzi esterni come la solitudine, il silenzio, la posizione del corpo e il tempo da dedicare, ma anche gli strumenti interni, vale a dire le virtù del meditante, onestà, sincerità, umiltà e buona volontà. Il nostro intento ora è quello di analizzare gli argomenti, gli oggetti, i temi del meditare e quindi la domanda è quali sono gli argomenti che meritano concentrazione meditativa, quali sono gli elementi che costituiscono i temi idonei ad essere meditati. Dante Morando indica alcuni temi però specificando che nessun uomo può respingere fin dall'inizio e che poi possono permettere le ulteriori elevazioni meditative. Sono quindi temi base fondamentali da cui si sviluppano a loro volta altri argomenti. Due gli ambiti di azione possiamo dire. Uno è quello specifico dell'attività professionale a cui l'uomo si dedica, chiaramente per necessità, però insieme anche al divertimento. L'altro è invece il campo più intimamente morale. Parlare dell'attività professionale che ciascuno svolge significa avere la consapevolezza dell'importanza del lavoro nella vita umana. Il lavoro è necessario, sottolinea il Morando, perché con esso si guadagna da vivere. Il divertimento pure è necessario perché rappresenta un riposo, uno svago e permette di rinfrescare le energie che altrimenti sarebbero oppresse da un lavoro continuo ed estenuante. Quindi per evitare che il lavoro ma anche il divertimento non siano ridotti ad atti puramente meccanici ed automatici, devono diventare oggetto di meditazione. Infatti il lavoro compiuto esclusivamente in modo obbligato, senza un'interiorizzazione meditativa della sua necessità dal punto di vista economico e morale, non dà e non può dare alcuna soddisfazione. In questo modo esso apparirà come un peso morale e nel momento in cui si trasformerà in monotonia forse la fatica certo diminuirà ma lo spirito cadrà facilmente nell'alienazione. Stessa conseguenza anche per il divertimento, cioè nel momento in cui l'uomo lo accetta passivamente cade nell'insoddisfazione. Il pensiero filosofico moderno, che va dal pragmatismo, allo strumentalismo, al neopositivismo, all'esistenzialismo e al marxismo, ha sottolineato con sfumature diverse l'importanza dei problemi concreti della vita umana, reclamando un impegno diretto e prospettando la necessità di meditare sui vari ambiti della realtà pratica in cui effettivamente vive l'uomo. Il Morando sottolinea non c'è dubbio che la meditazione di ognuno debba indirizzarsi su ciò che si riferisce a quelli che sono i suoi più immediati interessi e i suoi desideri, cioè su ciò che lo tocca più da vicino nel suo ambiente familiare e sociale. È dunque la natura stessa dell'uomo a concentrare il suo pensiero, la sua riflessione e la sua meditazione su ciò che gli accade giorno dopo giorno e gli offre gioie e dolori, i quali reclamano da lui un giudizio, una valutazione e un conseguente comportamento. La vita, dice sempre il Morando, abbandonata all'istinto è piena di un rischio assoluto di angoscia e di paura e la ragione umana insopprimibile non può non giudicare malinconica e tetra una simile vita, sottoposta o all'insignificanza degli istinti o alla pesante routine di abitudini passivamente accettate. Queste indicazioni sono forti, indicazioni che il Morando scrive nel 1955 ma ancora certamente attuale. Di conseguenza, dice sempre Morando, la meditazione rompendo la singolarità degli eventi e ricollocando un fatto con gli altri fatti, ne permette invece una completa valutazione sul piano teoretico e pratico e dà all'uomo la coscienza di poter ribellarsi al fatale andare del tempo e delle cose, progettando una risoluzione progressiva dei vari problemi concreti e una liberazione dai molteplici mali dell'esistenza. Qui il Morando è chiaro e preciso non solo sul valore della meditazione, vista soprattutto quale prassi veramente umana. Non bisogna però illudersi nel ritenere che l'attività meditativa si esaurisca solo in un sondaggio di ciò che può essere utile alle necessità professionali o agli interessi familiari e sociali. Certamente per meditare occorre sentire uno stimolo, un bisogno, un interesse che muove verso la meditazione. Qualsiasi attività che richiama l'attenzione determina chiaramente concentrazione e impegno di energia. Ma l'uomo, evidenzia il Morando, oltre ad essere uomo di affari o scienziato o artista o politico o un lavoratore o un soldato, ha da essere necessariamente prima di tutto un uomo tra gli uomini e con essi instaura rapporti non solo professionali ma morale. Il suo impegno quindi non si esaurisce dietro alle sole attività esteriori in quanto esse prendono rilievo e giusto e gusto soltanto se si è formata una sua personalità attraverso una costante educazione morale e con un paziente esercizio in cui si è formato e temprato il suo carattere. In questa luce continua il nostro affermando che è opportuno e doveroso che l'uomo faccia anche se stesso oggetto della propria meditazione. Ciò significa che il meditare sopra di sé si distingue dalla semplice introspezione o riflessione del conoscere se stesso, poiché esso è ordinato in più al fine specifico di formare il proprio carattere morale. E qui quindi il Morando specifica ancora che come una tale meditazione è un vero e proprio esame di coscienza. Sono aspetti importanti che ci aiutano a riflettere e approfondire questa nostra tematica. Questo lo vedremo più avanti, il tema della coscienza, dell'esame di coscienza, ma qui sta appunto la questione fondamentale che si vuole lanciare e proporre per superare la frammentazione dell'interiorità ed educare così la coscienza. La meditazione è in funzione dell'educazione della coscienza e del carattere della singola persona. L'uomo deve essere sempre però cosciente, padrone dei propri atti e capace di adattarsi alle diverse situazioni. E la meditazione in questo caso ha il merito di tenere viva l'attività spirituale, intellettiva e pratica, mentre l'esame di coscienza in particolare offre il vantaggio di farci diventare padroni della nostra anima, in quanto è meditazione che mira sia alla oggettiva e imparziale conoscenza e alla riflessione su di sé, allo scopo di scoprire i difetti, le loro cause e i mezzi eventuali proprio per eliminarli e sia per l'esecuzione pratica del processo della loro eliminazione. Con il Morando però noi sosteniamo il ritorno alla meditazione nei termini che stiamo proponendo e dell'esame di coscienza, poiché vera moralità e vera autoeducazione non c'è senza esami di se stessi, accompagnato dalla volontà di emendamento. In proposito, un medico francese che abbiamo già citato, Dubois, nel suo libro del 1930, dal titolo L'educazione di se stesso, nel capitolo sul pensiero meditativo scrive, fa meraviglia il tempo che si consacra ad acquistare virtuosità meno urgenti, mentre si pensa così poco a quell'opera necessaria che si chiama la formazione del carattere. E' questo un segno di eccessiva leggerezza, in quanto dimenticando la formazione del proprio carattere si dimentica tutto, poiché si compromette anche la stessa possibilità di gustare e vivere le stesse virtù umane. Per impegnarsi a migliorare se stessi è necessario esaminarsi, dice Morando. Questo non solo l'invito appunto, ma l'obbligo morale che il Morando indica, il quale in modo quasi ironico afferma che nel tempo presente si fanno esami per le più piccole cose, esami per la missione a scuola, gli esami di maturità, gli esami universitari, gli esami per la patente, gli esami clinici e sottolinea tutta la vita è ridotta ad un continuo esame e solo non si dovrebbe fare l'esame di coscienza. Carrel, un altro medico, scrive nelle sue riflessioni sulla condotta della vita, per rendere razionale la nostra esistenza il procedimento più efficace consiste nel tracciare ogni mattina un piano per la giornata e nel fare ogni sera l'esame dei risultati ottenuti. E ancora il Morando dice al mattino molti dedicano qualche minuto alla ginnastica e ciò sta bene, ma non si vede perché non si possa e debba consacrare qualche minuto anche per la ginnastica spirituale, che è la meditazione sotto forma di esame di coscienza. Tutti questi sono paragoni che indicano come attraverso la meditazione, vista anche come esame di coscienza, si sviluppi in fondo all'anima una regione segreta in cui ci si trova soli e senza maschera, faccia a faccia con se stessi. Grazie.